hanno dato una grande mano, grazie mille a tutti chi ha lavorato io vorrei ringraziare una persona che fino adesso non l'ha salutato perché gli ha detto solo che ballava mentre i ragazzi cantavano ed è il nostro carissimo Francesco Mendicino che ha ripreso tutto grazie mille a Francesco Mendicino grazie mille è stato gentilissimo è stato gentilissimo su questo, quindi grazie mille anche a lei grazie mille a tutti